Easy go Vedo dei materiali Arcieri, forza! I fiammi danneggiano la nave Frecce in amido Arcieri, pronti! Forza! Pronti all'attacco nemico? Hanno scagliato delle frecce Un'altra salva, forza! Pronti a colpire! Arcieri! Arcieri, arcieri! Malaga! Arcieri! Prevatore! Basta! Attacco in arrivo! Alle frecce! Prepararsi all'appontaggio! Seguitemi! Our lives to repositions Non coano Non coano Cosa Non coano Basta Non coano Non coano Non coano Perfettare so Vediamo come combatti. Vediamo come combatti. Sì, sì. Sì, sì.